Si andrà velocemente verso la sentenza del processo per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa Ligure, volata giù dal sesto piano di un hotel delle Baleari nell'agosto 2011, secondo l'accusa cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro, suicidio invece secondo la difesa dei due imputati, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di morte in conseguenza ad un altro reato. Il collegio non ha infatti accolto la richiesta presentata dai legali dei due giovani di ascoltare altri testi stranieri, un poliziotto spagnolo, una guida turistica ed infine il portiere dell'albergo, rigettata anche l'istanza presentata dall'avvocato Tiberio Baroni, legale di Alessandro, di acquisire o sequestrare il cellulare di Martina, poi restituito alla famiglia. Sono state invece acquisite le dichiarazioni dell'unico testimone oculare, la cameriera Francisca Puga si cura del suicidio. Nella scorsa udienza illegale di Luca Vanneschi aveva prodotto un video che simulava lo scavalcamento del muretto dei terrazzi delle camere per sostenere la tesi del suicidio. Quello che abbiamo dimostrato, che ci siamo resi conto andando in loco, è l'estrema facilità e soprattutto l'assenza di pericolosità nel far questo, perché proprio dalle simulazioni fatte è di una facilità estrema, anche per un soggetto come me abbastanza robusto, prendere, attraversare e scavalcare con assoluta facilità e sicurezza. Se era così facile scavalcare e prendere delle vie di fuga laterali, per quale motivo Martina scavalca dal centro del terrazzo? Se è vero che era facile scavalcare, questo rafforza la tesi dell'accusa che fosse logico nel tentativo di fuga cercare di andare nell'altro terrazzo. Dopodiché il collega ha mostrato a tutti come sia possibile scavalcare in condizioni di assoluta lucidità, essendo andata a Madrid appositamente per tentare quel tipo di attività e che vi sia riuscito. Altra cosa è pensare che di poter escludere che una ragazza traumatizzata, che ha appena subito una violenza o un tentativo di violenza e che cerca di scappare senza occhiali, non possa perdere l'equilibrio e cadere. Si è conclusa così l'istruttoria dibattimentale. La prossima udienza è stata fissata per il 27 novembre e dentro fine 2018 dovrebbe arrivare la sentenza.